Allora, io faccio questo video per rispondere a tutti quelli che in questi giorni mi stanno prendendo pesantemente per il culo sul web con questi fotomontaggi di dubbio gusto. Quello che ha scritto su Twitter, Matteo Salvini, per una volta che sei andato a lavorare scoppiano le bombe ma statene a casa. Allora, io volevo chiarire questo punto, io non ero andato a Bruxelles per andare a calare le braghe in Parlamento e lo posso dimostrare perché io sono arrivata a Bruxelles nel weekend, il Parlamento apre martedì, io alle 8 di martedì avevo un biglietto per tornare indietro, poi è successo quello che sapete e sono rimasto bloccato. Ma la cosa sconvolgente di tutta questa vicenda è che ci potevo restare anch'io sotto quella bomba, potevo aprire il giornale il giorno dopo e leggere Salvini non c'è più. Come ci sarei rimasto? Mi tremano ancora le mani a pensare a quella situazione e io sono uno che ha due palle così. Pensate come sono ridotti quelli che le palle non ce li hanno, allora non è il ragismo anche questo? Cosa dobbiamo fare? Far morire di infarto tutti quelli che non hanno le palle? Mio cognato non ha le palle, cosa deve fare? Deve morire di infarto per far contenti questi radical sick che dicono oh no, noi non li dobbiamo affogare sui barconi, oh no, noi bambini non li affoghiamo, questi borghesi ben pensanti. Cosa ero venuto a fare a Bruxelles? C'era un party tecno a cui tenevo. Sono ero tico, come Putin, lui è più scolpito, io sono più morbido. Nessuno ci può fermare, continuiamo con il nostro stile di vita, nessuno ci può fermare, continuiamo. E ben ritrovati al Tg Porco, continuano le tensioni all'interno del PD, la minoranza accusa la maggioranza di avere tradito la volontà popolare sul referendum sull'acqua pubblica, Deborah Serracchiani è venuta a trovarci al Tg Porco. Cosa risponde a queste accuse? Che sono accuse senza senso, perché il PD non ha tradito affatto la volontà popolare, chiunque faccia un buco per terra e trovi l'acqua la può prendere senza che nessuno gli chieda i soldi. I soldi li chiediamo soltanto se vuoi l'acqua con il rubinetto a casa, ma il referendum non era sul rubinetto pubblico, era sull'acqua pubblica, quindi proprio non capisco che in cosa consista questa accusa. Chiarissimo Serracchiani. Senta, l'aviene anche contestato un Twitter del 2012 in cui lei si schierava contro le trivelle, mentre oggi addirittura il governo invita gli elettori a non andare a votare al referendum del 17 aprile. contro le trivelle, non è una contraddizione? Non c'è nessuna contraddizione, ve lo spiego. Se io dico l'Italia è un paese basato sul turismo, mettere le trivelle sulla spiaggia è una cosa da matti, ha un senso. Se poi faccio un accordo con le multinazionali del petrolio e gli dico le potete mettere le trivelle sulla spiaggia, c'ha ancora più senso, non c'è nessuna contraddizione. Mi sembra che il mio ragionamento sia assolutamente congruo. Le sembro passa? Non lo so. No. Brava, anche perché se avesse detto che il mio ragionamento non era congruo, noi l'avremmo sostituita con un conduttore che diceva che era congruo, lei avrebbe perso il posto e il mio ragionamento sarebbe rimasto congruo. Chiarissimo, è chiarissimo vice segretario Seracchiani, anzi è talmente chiaro che mi domando se non sia necessario far capire meglio ai nostri spettatori che non devono andare a votare il 17 aprile al referendum sulle trivelle, ma invece al referendum di ottobre sulle riforme costituzionali devono andare a votare in massa. È giusto? Abbiamo capito bene? Allora è fondamentale votare in massa a ottobre perché noi trasformeremo il referendum sulle riforme costituzionali in un referendum plebiscitario per Matteo Renzi. Se andranno a votare 35 milioni di elettori saranno 35 milioni di mi piace Matteo Renzi. Ed è chiaro che quando hai 35 milioni di mi piace affronti le future elezioni politiche come se fosse una passeggiata. Però adesso su Facebook hanno aggiunto anche la faccina arrabbiata grrrr. Avranno anche aggiunto la faccina col grrrr, ma di fronte a un quesito che immediatamente si presenta all'elettorato come volete tagliare lo stipendio ai senatori, non abbiamo nessun timore di perdere perché gli italiani li odiano i senatori, sono più odiati addirittura dei vigili urbani. Li odiano perché prendono 18 mila euro al mese e non parlano neanche l'italiano. Sì, questo l'ho notato anche io una volta che sono andata al Senato, mi ha colpito l'intervento di un senatore che disse quando l'umuriello usugno quattu quattu urimulusi scutiella. Mi sono poi fatta tradurre, intendeva chiedere lo sblocco di una concessione di lizia, però ho notato che l'italiano non è molto usato al Senato. I senatori sono dei mentecatti, non voglio generalizzare, però generalizzando sono dei mentecatti, la gente li odia e quindi se tu gli vai a dire mai indebolissi la democrazia, mai i costi del Senato restano insensi agente, lui prega niente, nel momento in cui possono tagliare lo stipendio a 350 senatori è una piccola soddisfazione e gli italiani di queste piccole soddisfazioni ne hanno tanto bisogno e l'abbiamo visto con gli 80 euro. Per questo il nostro quesito referendario è sicuramente vincente, per questo quando si dicono noi del PD non siamo in contatto con i cittadini, mi viene un pochino da sorridere, perché i sentimenti dei cittadini nei confronti della politica noi li conosciamo molto bene. Noi sappiamo che se chiedessimo agli elettori di tagliare anche i nostri stipendi, avremmo un altro plebiscito anche più grosso di quello sui senatori. Però questo referendum non lo farete naturalmente? No, no, questo referendum lo facciamo, no. E mica se abbiamo scritto Bersani sulla fronte. Certamente, grazie. Serracchiani, dunque ci vediamo il 17 aprile alle urne. Scherzavo, scherzavo, Serracchiani, era soltanto una battuta, era una battuta. Ed ora sarebbe previsto il collegamento con Montecitorio, la nostra inviata gratis Mara Ventura, ma i gravissimi fatti di Bruxelles ci impongono il lutto e quindi per questa volta il collegamento non avverrà. No, il collegamento si fa, si fa e come. E questa storia di utilizzare il lutto come strumento di censura e vecchia come il cucco inventate meno un'altra. Anche perché oggi ho trovato per voi una notizia sul progetto della riunificazione della sinistra che c'ha pure dei risvolti comici. Pare infatti che dietro al fatto che Marino non ci ha ancora fatto sapere se si candida o meno a sindaco di Roma ci sia dietro la casa editrice Feltrinelli. Mara, stai delirando, cosa dici tesoro? E' un fatto molto semplice, Marino sta per pubblicare con Feltrinelli il libro che dovrebbe sollevare un putiferio contenente rivelazioni shock sul rapporto fra lui e Renzi quando Marino era sindaco e presumibilmente la Feltrinelli ha dato a Marino un lato anticipo e presumibilmente gli ha chiesto in cambio di questo lato anticipo di impegnarsi a fondo nella promozione. Ora è successo che Fabio Fazio ha fatto sapere che se Marino si candida lui a che tempo che fa non ce lo invita a fare la promozione e per questo Marino starebbe rimandando di giorno in giorno. De candidi allora, boh non lo so, bottero dico domani, bottero dico dopo domani. Sì, Mara, abbi pazienza, ma tu stai sostenendo davvero che la casa editrice Feltrinelli vuole impedire a Marino di candidarsi al sindaco di Roma? No, al contrario, Feltrinelli vuole che Marino si candidi ma dopo che ha finito la promozione in modo tale che la promozione può continuare pure durante la campagna elettorale anziché durare un mese, dura fino a giugno, una pacchia. Questo fatto ci fa riflettere naturalmente sulla questione della sinistra italiana e sul fatto che il problema non sono tanto gli elettori perché gli elettori a sinistra ci starebbero pure, il problema sono le persone che si presentano che al solito non hanno nemmeno il minimo della parvenza, della credibilità. Da Montecitorio è tutto la vostra inviata gratis. Maraventura. Io voglio soltanto pregare gli spettatori di far finta di non aver sentito, chiedo scusa alla Feltrinelli e abbiamo per fortuna cose molto più importanti di cui occuparci, possiamo fare tutti qualcosa per sconfiggere il terrorismo, ce lo ha spiegato il nostro ministro degli esteri Gentiloni, dobbiamo continuare ad andare al ristorante a teatro e al cinema, che poi al cinema e al teatro non ci va nessuno, quindi andiamo solo al ristorante, ma trattandosi di simboli della democrazia, democrazia del ristorante suona male, quindi ci aggiungiamo anche il cinema e il teatro. Per questa edizione è tutto, arrivederci alla prossima con il TG Porco.